incidente con incendio in autostrada muore camionista quarantenne articoli commerciali fuori legge la guardia di finanza ne sequestra altri 1200 la regione approva il bilancio 2021 2023 si rilanciano investimenti in infrastrutture consiglio comunale la pandemia non ha frenato la macchina amministrativa una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione con il nostro telegiornale apriamo questa edizione con la cronaca parlando del tremendo incidente con incendio avvenuto nella tarda serata di ieri in autostrada all'altezza del viadotto di santa veneranda in cui ha perso la vita un camionista vediamo il servizio è morto in un inferno di fuoco il camionista di 40 anni che martedì sera attorno alle 20 e 30 è sbandato con il suo auto articolato contro il guardrail dell'autostrada ribaltandosi innescando una serie di esplosioni e spezzandosi in due una scena apocalittica quella che si è palesata in prossimità del viadotto autostradale che dalla corsia nord della 14 si affaccia sul quartiere pesaresi di santa veneranda boat e ripetizione fiamme accecanti e colonne di fumo oltre al potenziale pericolo per i residenti del quartiere che hanno visto cadere dal ponte pezzi di lamiera roventati sedare il rogo è stato uno sforzo considerevole per le 5 squadre di vigili del fuoco di peso refano intervenute con 17 uomini in fiamme lamiere pneumatici e rifiuti umidi all'interno del mezzo pesante adibito al trasporto di immondizia il corpo senza vita del camionista è stato ritrovato dopo lo spegnimento del rogo si tratta di un quarantenne residente in romagna e secondo le indagini è incappato nel sinistro fatale in maniera autonoma senza il coinvolgimento di altri veicoli l'incidente ha creato code in autostrada con la chiusura del tratto fano pesaro per il completamento delle operazioni di spegnimento delle fiamme durate per ore parliamo ancora di cronaca perché la guardia di finanza di pesaro urbino ha sequestrato 1200 articoli non conformi alle norme del codice di consumo potenzialmente pericolosi per la salute i sequestri sono avvenuti durante alcuni controlli effettuati negli ultimi giorni festivi a fano urbino cagli fossombrone pergola fermignano e acqualagna sono stati sequestrati 900 articoli di bigiotteria abbigliamento e accessori moda insieme a 300 giocattoli il tutto per un valore complessivo di 9 mila euro l'operazione arriva a pochi giorni dal sequestro a valle foglia di altri 10.500 articoli ritenuti fuori legge e ora la pagina degli aggiornamenti per quanto riguarda il covid 19 sul nostro territorio nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi nella regione marche sono 585 125 dei quali nella provincia di pesaro e urbino dati rilevati da 3.346 test nel percorso nuovi diagnosi su un totale di 7.315 tamponi processati il rapporto positivi tamponi scende dunque dal 19 al 17,5 per cento rispetto alla giornata di ieri sempre nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati anche 11 decessi di marchigiani contagiati dal covid 19 e apriamo adesso la pagina politica del nostro telegiornale perché nella tarda serata di ieri è stato approvato il bilancio di previsione 2021 2023 della regione marche il primo della giunta acquaroli ne abbiamo parlato con il consigliere regionale nicola bayocchi ci sono dei dei forti cambi delle forte delle forti differenze in questo bilancio che sono legate sia nel merito ovvero nella scelta dei provvedimenti da utilizzare dando forte rilievo alle famiglie al lavoro al mondo del lavoro mondo dell'impresa le fragilità e quindi questo vero e proprio merito ma soprattutto nel metodo è stato completamente ribaltato il vecchio sistema di di composizione del bilancio che era fortemente basato sulla tabella c che come sapete era una tabella dove prevedeva dei contributi puntuali dati delle cosiddette vere e proprie marchette date agli amici degli amici e noi abbiamo come promesso di campagna elettorale voluto cambiare questo tipo di sistema dando e finanziando le leggi regionali che meritavano di essere di essere finanziate e dando dei contributi solamente a quelle associazioni solamente a quelle persone a progetti meritevoli io capisco che purtroppo negli anni sono stati abituati tante persone ad agire in questo modo noi siamo siamo diversi siamo orgogliosi di voler fare politica in maniera diversa dando delle prospettive dando una visione futura molto importante perché anche nel documento di economia e finanza che dà un po la linea politica e programmatica per i prossimi anni ci sono delle linee chiare di quello che si vuol fare quindi una nuova agenzia per il turismo rinnovazione un la rivisitazione della svim e tante altre cose importantissime che questa regione vuole applicare quindi siamo molto contenti e la regione Marche stanzierà 5,7 milioni di euro per progettare nuove infrastrutture e aggiungerà risorse proprio agli adeguamenti degli ospedali questa la linea di investimenti che ci viene tracciata dall'assessore regionale Francesco Baldelli per quanto riguarda le infrastrutture i lavori pubblici assessorato affidato insieme alle deleghe dell'edilizia sanitaria ospedaliera del governo del territorio delle aree interne politiche della montagna il cambio di passo rappresentato dal fatto che per la prima volta grazie alle competenze del collega Castelli assessore al bilancio che ha saputo fare sintesi tra richieste degli esponenti della giunta è stato reintrodotto un capitolo molto importante quello per le progettazioni di opere e di infrastrutture che mancava da oltre dieci anni questo significa non aver avuto in passato una visione complessiva della nostra regione e del suo sviluppo delle sue potenzialità di sviluppo infatti progettare significa poi andare ad intercettare finanziamenti europei e nazionali vediamo l'importanza del recovery plan e di questi fondi che dovrebbero arrivare all'italia ma vediamo anche la licitosità del governo siamo una delle poche nazioni che non è pronta con dei progetti immediatamente canterabili anche le marche pagano questo ritardo un ritardo infrastrutturale che parte da un ritardo della progettazione noi cerchiamo di colmare questa lacuna lo facciamo con 5,7 milioni di euro un fondo rotativo che toccherà tutte le province marchigiane che verrà in successive fasi anche integrato in maniera tale da avere una viabilità infrastrutturale non solo stradale ma anche ferroviaria anche le ciclabili intermodale interconnessa l'altro cambio di passo edilizia sanitaria e ospedaliera è considerata come una infrastruttura strategica dei nostri territori da qui l'altro cambio di passo vogliamo far dialogare costa e dentro terra abbiamo detto no agli ospedali unici che uccidevano tutto il territorio e ce l'ha dimostrato la pandemia del 2020 nella prima ondata l'insufficienza della risposta che ha saputo dare il nostro sistema sanitario ospedaliera e la concentrazione che rappresenta un ulteriore pericolo di diffusione del virus e allora pensiamo di dire no agli ospedali unici sia il potenziamento degli ospedali maggiori quelli che si trovano sulla costa anche con la costruzione di nuove strutture ma al contempo realizzare ospedali filtro all'interno quelli sciaguratamente chiusi nel 2015 che poi hanno creato l'intasamento delle strutture maggiori quindi non intasare le strutture maggiori prevedere per le strutture maggiori l'alta specializzazione realizzare delle strutture filtro nell'entroterra questo come lo possiamo fare aggiungendo risorse come abbiamo fatto con questo bilancio 2021-2023 proprio nell'adeguamento delle strutture sanitarie ospedalieri esistenti oltre ovviamente agli investimenti per le nuove strutture ospedaliere o per il potenziamento delle strutture maggiori e questa mattina l'ufficio di presidenza del consiglio comunale di pesaro ha presentato il bilancio di un 2020 in cui la pandemia non ha fermato la macchina amministrativa vediamo il servizio nonostante un consiglio comunale costretto allo smart working dalla pandemia l'attività dell'assise pesarese del 2020 non si è mai fermata 21 consigli comunali come nel 2019 94 per cento di presenza di consiglieri 140 proposte di delibera votate 55 emozioni ordini del giorno con 40 atti approvati a riprova di un confronto fra maggioranza e minoranza 125 commissioni consigliari di cui 57 online questi i numeri di un consiglio comunale che manda in archivio il suo 2020 è stato un anno particolarissimo anche per il consiglio comunale che ha fatto grandissime difficoltà nel portare avanti le attività istituzionali ma ci siamo riusciti abbiamo organizzato 21 consigli comunali confermando l'attività del 2019 oltre 100 commissioni consigliari e non ci siamo fermati ci siamo innovati abbiamo acquistato dei software per poter permettere ai consiglieri di fare attività da remoto e non fermare mai la macchina istituzionale democratica quello che è uno dei prossimi obiettivi è quello di riportare di poter ritornare a esercitare il nostro ruolo di consiglieri comunali e dal vivo di poter esercitare in questa aula che devo dire è bello rivedere dopo qualche mese che purtroppo non abbiamo potuto frequentare perché la democrazia bisogna anche di un confronto diretto questo sicuramente uno dei prossimi obiettivi il secondo penso che debba essere anche quello di una revisione dei regolamenti con cui si articola il consiglio comunale prevedendo queste nuove modalità come strumento ma anche prevedendo quelle che sono le nuove sfide per poter garantire due di quelli che sono i nostri grandi obiettivi la trasparenza e la partecipazione io credo che nel nuovo anno questa sarà una grande sfida e speriamo di poter ritornare presto a esercitare il nostro ruolo di consiglieri comunali facendolo di persona e non solo attraverso un microfono e attraverso uno schermo e ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che vi ricordiamo di inviare al nostro numero di redazione 370 366 72 10 ieri vi abbiamo mostrato il video di un telespettatore che in zona soria lamentava carenze nella pulizia di via gattoni in prossimità della scuola dante le ieri lo stesso telespettatore ci segnala oggi come in mattinata siano intervenute macchine operatrici per la pulizia del fogliame in seguito al video pubblicato su rossini tv un'altra segnalazione di un nostro telespettatore ci documenta un problema che continua periodicamente a ripetersi tronchi e vegetazione trasportati dal fiume foglia si depositano sotto il ponte della ferrovia in via del carso ostruendo il passaggio una foto che intende dunque sollecitare quanto prima un intervento di rimozione e ora ci spostiamo a fano dove c'è soddisfazione fra gli utenti di aset spa lo dimostrano i numeri dell'ultima indagine sul gradimento di famiglie e imprese commissionata proprio dall'azienda multiservizi sorprendenti i dati relativi alla fiducia nella modalità di fatturazione dell'acqua così come quelli riguardanti i parcheggi a pagamento vediamo il servizio a cura di simone celli 7.3 è questo il voto complessivo su una scala da 1 a 10 scritto sull'ultima pagella di aset spa l'azienda multiservizi di fano ha affidato alla sigma consulting di pesaro l'indagine biennale sul gradimento degli utenti mille le interviste effettuate tra famiglie e imprese nei 12 comuni in cui aset opera e i risultati sono stati più che soddisfacenti il 92 per cento degli intervistati infatti ha espresso un voto tra 6 e 10 il 47 per cento addirittura sopra otto numeri eccellenti soprattutto per il centro di raccolta differenziata e per il ritiro degli ingombranti a domicilio quest'ultimo con un livello di soddisfazione pari a 98 su 100 c'è un costante aumento e c'è appunto questa dichiarata diciamo così capacità del dei nostri operatori di fare in modo che le problematiche vengono risolte vengono risolte nel migliore dei modi per noi questo è il miglior coronamento di quest'anno che è stato un anno pesante difficile quindi come per tutti anche noi abbiamo avuto delle difficoltà abbiamo avuto nuovi servizi abbiamo avuto servizi che non ci saremmo mai immaginati di fare e questi c'è stata una risposta importante da parte dei nostri dipendenti in termini di flessibilità in termini di nuove professionalità acquisite in termini appunto di capacità di reagire a questa situazione a colpire sono soprattutto i numeri relativi al servizio idrico in particolare il 96 per cento di gradimento ottenuto dalla modalità di fatturazione questo vuol dire che se non parliamo di soldoni vuol dire che io cittadino so che se tu mi fai pagare tot sono dovuti al consumo effettivamente che io faccio di quella cosa e questo secondo me mi sembra un atto di fiducia enorme di degli utenti nei confronti dell'azienda molto bene anche le farmacie comunali l'illuminazione e il verde pubblico per non parlare delle soste a pagamento il 60 per cento degli intervistati sono convinti che i parcheggi a pagamento diminuiscono fanno diminuire notevolmente l'impatto dell'ambiente e quindi l'inquinamento sulle nostre città e quindi la qualità della vita e questa è una sorpresa un po perché riteniamo che determinati servizi che magari potrebbero risultare odiosi mentre invece forse c'è una nuova concezione una nuova modalità di vedere la sosta a pagamento come modalità importante per garantire la solubilità delle delle nostre città per garantire i servizi per avere maggior mobilità tra le poche criticità emerse vi è la pulizia delle isole ecologiche anche se spesso certe problematiche sono legate soprattutto all'inciviltà di alcuni cittadini gli sporchi di isole ecologiche e sono coloro che non conferiscono in maniera corretta ed esatta e quindi o abbandonano del materiale quando non si potrebbe in quanto il regolamento parla chiaro se c'è un contenitore pieno si riporta la rovina a casa propria si telefona l'ase dicendogli di svuotare il contenitore e poi si riporta oppure quando si conferisce dal materiale che ha nulla a che fare con quello che viene conferito in quell'isola ecologica lì quindi si dovrà lavorare molto sul ancora un po di più sull'educazione e da parte nostra aumenteremo le squadre che vanno a pulire questo genere di luoghi cioè queste isole ecologiche ci impegneremo sia da un punto di vista di una maggior sorveglianza che da un punto di vista di aumentare gli operatori che andranno a ripulire queste aree. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento in prima serata questa sera su Rossini TV a partire dalle 20 in diretta ci sarà lo sport con il match che vedrà protagonista Little Service sul campo del Kame Dosson questa sera quindi Little Service in diretta a partire dalle ore 20 su Rossini TV. Domani invece dopo il nostro telegiornale alle ore 20 andrà in onda i fatti del 2020 una rubrica attraverso cui vi racconteremo i fatti più importanti di quest'anno raccontati attraverso i servizi realizzati nel nostro telegiornale domani sera giovedì 31 dicembre a partire dalle ore 20 e poi in replica anche venerdì 1 gennaio alle ore 12. E sempre domani rimanete su Rossini TV anche per festeggiare l'arrivo del nuovo anno con lo spettacolo di Capodanno in diretta da Fanno dal Teatro della Fortuna. Si intitola infatti sconcerto delirico questo evento che vedrà protagonista l'orchestra sinfonica Rossini e il San Costanzo Show insieme in una serata di auguri risate e grande musica. Appuntamento quindi su Rossini TV per aspettare la fine di questo anno e l'inizio del nuovo a partire dalle ore 23. E vi ricordiamo inoltre che sarà possibile vedere su Rossini TV la messa del 1 gennaio a partire dalle ore 18 e 30. Appuntamento quindi per il 1 gennaio su Rossini TV. Questo era davvero il nostro ultimo avviso, l'informazione torna domani mattina su Rossini TV con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20. Grazie per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.